E' un'altra cosa, ci credo che ti dovrebbero stare Sì, no, a dopo ci venimo Siamo a prenotare Siamo a prenotare Questa è l'Oscena Qui siamo a Porto Vecchio Siamo alla Gala Siamo a Porto degli Arabi E non forse ando dopo qui Ma il mare qua va dentro il mercato Ma il mare fino all'alto Guarda Guarda che l'alto Siamo a dentro Dalla Gala Quello è il Monte Pellegrino Che si trova a 600 metri d'altezza Dal livello del nord Dove c'è la nostra santa E c'è la Santa Rosa Quello è il castello che si vede Il castello ultiveggio Fatto nel 1.9 su un comente Con Palermetano Appena facciamo la tutta Poi si vede E' rosa E' rosa E c'è la montana Più grande d'Italia Che si accetta Allora di sotto E fanno a 18 metri a notte Con la musica Con i bassi Del basso O della batteria Andiamo C'è la piscina Più grande d'Italia Perché come fa sentire giù E c'è la montana Che si accende Sì Dentro ci sono 45 locali Quindi sei sul mare E vede a professore Le mani Le mani No C'è la donna davanti No C'è la fanno quella Ma perché davanti Ma perché ti cambia Le piace Allora Da buttare fermi Dai 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 Oh Fra 5 minuti Fa la scena No Mette qui signora Allora Allora Io me la faccio io La foto Che la metto sui social E poi me la dà un telefono Lei faccia quindi Che tocca Ragazzi Allora Allora A te lui ci fa la foto Ah scusa Siete pronti Ah ti guarda avanti Io che guida Ci Dai vado a fare lì Vado Dai vado a fare Che non Guarda che meraviglia Vado 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 Va bene 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 Allora Ci fa una foto Lei signora Così sapete dove Mi dovete trovare Va bene Allora Su Instagram Facciamo Instagram Quella è tua Allora questa è mia nipota Ah C'è una Fai una foto Fai una foto E dopo la cosiamo No Andiamo a vedere Perfetto E poi ve la mettiamo Ok Ora vedo Facebook Se avete Facebook Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.